ciao a tutti ragazzi oggi è l'11 11 di 2021 io sono diego e questo è il shop di fortnite abbiamo il bundle maschera metallica con zadi bocca metallica il loro piccone e questi penso siano gli incarichi per prendere gli stili aggiuntivi poi orin con il suo zainetto il piccone eccolo qua la squadra bagliore proprio per il sono qui questo il contrario di quelli che prendono la screen dalla skin dei supereroi da tra iardini tutta di un colore per mimetizzarsi tutte queste minchiate questo proprio se non se non ti vedono non andare dall'opulista gattastrofe va bene carina dai guarda chi c'ha sito toxic proprio sulle tette è carina se ne tocca il piaggiatore corrotto con il visore gliccioso carino minchia questo non ho mai visto non ci ho mai fatto caso più che altro forte anche se non è proprio una tuta da sub però potrebbe esserlo beh sì è una tuta spaziale quello un alienino con anche lui la tuta ok calzini splat 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 rompi ghiaccio che molti vogliono nei vostri posti lì lì fate bravi ok adesso quando fai dei live tipo se è creativa va devi far qualcosa non ti ascoltano amici tulituli jinx arcana c'è da un po' che nello shop poi va bene questo il suo cabbo lì di coso e il ciapulin va bene anche lui da un po' che nello shop è il costume del ciapulin per le varie skin femminili e maschili è stravisto pure questo pacchetto riflessi oscuri anche questo penso che l'abbiamo già un po' visto poi incarichi dynamo derby quindi skin questo già ci sta quanti di bacchini puoi arrivare questa è carina ci vedo il baglietto così no è così poi vabbè leggendamente l'abbiamo visto non so come fa a costare 30 euro via per cosa poi per tre skin sì vabbè questa fa un po' caccare no non l'ho mai vista in gioco queste si ci sta ma è 30 euro tre skin simili tra loro pacchetto lars ah quindi questo con 15 euro ti dà anche salva al mondo eh sì non ci hanno mai fatto caso luce caduta 3 euro e 99 e maestri di magma che anche questo è nello shop da un bel po' di tempo comunque e questo è carino questa qua mi piace e la crua perché abbiamo già visto e stravisto ma abbiamo di lo stesso ecco qua ragazzi questo era il video dello shop io sono Diego se non siete iscritti al canale andate a schiacciare i ricci col culo ciao a tutti per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento grazie a tutti